Bonsoir mesdames et messieurs, siamo qui per cantare e suonare umilmente le canzoni di Edith Piaf. Ci saremo io alla voce, Claria Cicero, alla chitarra Manouche con Rado Caruana e alla fisarmonica Atos Bassissi. Vi presenteremo il nostro concerto spettacolo Tributo a Edith Piaf e sappiatelo, non è un solito concerto. Vi aspettiamo quindi lunedì 2 dicembre alle ore 21.30 alle cantine del Gavazzano Blues, onoratissimi di far parte della programmazione del festival. Vi aspettiamo, vi emozioneremo, vi sorprenderemo. Ciao!